Inhotelos ha sviluppato una metodologia per facilitare il reshoring di produzioni all'estero. Il nostro schema reshoring sintetizza la nostra metodologia. Vi invitiamo a scoprire i contenuti delle sue diverse caselle che illustreremo con esempi. La nostra metodologia si fonda su due fasi. La diagnosi rappresentata nella parte superiore dello schema. Le azioni rappresentate dalla parte inferiore dello schema. Due fasi, due video. Cominciamo con il primo passo che introduce i fondamenti per valutare il valore e la fattibilità del reshoring. A volte è difficile immaginare la complessità dei flussi fisici per realizzare un prodotto. Ecco l'esempio semplificato di un vero prodotto di massa, tecnicamente made in France, più precisamente realizzato vicino a Lione e venduto in Svezia. Vi accompagneremo in questo viaggio. Allacciamo le cinture. Il componente più complesso e critico di questo prodotto è fabbricato in Corea. Spedito in Germania Meridionale per una prima operazione, viaggia successivamente in Cina per essere incorporato in un sottoassieme. Dalla Cina viene poi trasferito in Lombardia per essere assemblato in una parte in plastica stampata. Quindi deve tornare in Cina, dove viene eseguito il cablaggio elettrico. Infine arriva vicino a Lione, dove il prodotto viene finalizzato prima di essere spedito a Stoccolma. Il cliente non immagina che il componente centrale del prodotto aveva percorso più di 50.000 km per arrivare a casa sua. Se da un lato la conoscenza approfondita dei flussi è obbligatoria, è fondamentale conoscere anche i dettagli delle produzioni. Quali sono le macchine necessarie? Quali processi specifici dobbiamo padroneggiare? Di quali abilità umane abbiamo bisogno? Spesso questa conoscenza è diffusa tra molte persone, con ruoli diversi. Entrare nei dettagli vi farà scoprire diverse sorprese. È fondamentale anche sapere cosa acquistiamo e cosa forniamo. Citiamo l'esempio di un produttore di prodotti in plastica, ovviamente conforme agli standard di sicurezza, che ha deciso di produrre in Lombardia. Egli utilizza le competenze riconosciute di modellisti e produttori di stampi nella provincia di Bergamo. La sua materia prima può essere acquistata in Arabia Saudita o in Germania, ma il ritardante ignifugo, che è essenziale ed è un componente molto tecnico, è prodotto da un unico fornitore situato nel nord-ovest della Francia. Questo piccolo dettaglio era sconosciuto dall'azienda fino a quando il fornitore francese non ha patito un disastro non per un incendio, ma per un'ondazione. Andiamo nel riquadro dei costi. I contabili delle nostre aziende spesso conoscono in modo molto preciso la ripartizione dei costi dei nostri prodotti, ma si sa che un tram è 3,5 volte meno costoso di un treno ad alta velocità, quando esprimiamo il costo in euro per chilogrammo. Se mettiamo i vostri prodotti sulla nostra curva che compare ai costi al peso, si scopriranno informazioni molto utili. Infine, completiamo la panoramica di ciò che dobbiamo analizzare concentrandoci sul capitale impiegato e più precisamente sugli stocchi e sugli investimenti. La conoscenza del capitale impiegato è spesso molto importante. Ad esempio, un produttore di gas industriali immobilizza fino a 19 mesi di fatturato, un produttore di shampoo e mascara ne immobilizza il corrispondente di 13 mesi. Abbiamo esaminato la parte superiore del nostro schema di reshoring che ci consente di valutare la fattibilità. Vi invitiamo a visionare il seguente video in cui esamineremo la parte inferiore dello schema che descrivano l'implementazione operativa del reshoring.